Voi che per il mondo andate errando, alla ricerca di meraviglie alte e stupende. Venite qui, dove tutto vi parla d'amore ed arte. A pochi chilometri da Palma de Mallorca, qui Spagna, un paesino immerso nei monti Val de Mossa. Incredibile, un ritorno nel passato. Val de Mossa è un comune spagnolo di 2000 abitanti, situato nella comunità autonoma delle Baleari. Si trova a nord-ovest dell'isola Maggiore, Mallorca, ed è ricordata per essere stata luogo di soggiorno del compositore Frédéric Chopin. Val de Mossa è uno dei paesi più belli di Mallorca e si trova vicino alla costa settentrionale, a 17 chilometri a nord di Palma di Mallorca. Questo borgo rurale si trova tra le colline con una splendida vista sul mare ed è circondato da oliveti, mandorli e una campagna rigogliosa, molto apprezzata dagli amanti delle escursioni. Anche se il suo fascino è dovuto principalmente alla sua architettura tradizionale, alle piccole strade strette e alle case del caratteristico colore ocra, che si susseguono nel centro storico. Il colore verde delle porte e finestre delle case contrasta con la sobrietà della pietra con cui sono state costruite. Il piatto tradizionale del paese è la coca de patate, una torta dolce di patate lessi. E da Marbella, Val de Mossa, bellissimo, in dolce compagnia Andrea Evans, TG Evans.